Sì, ma c'è anche Roberto, eh! Sì, è molto impegnato! Ma con chi? Con noi! Eh? E basta! Ma no, con noi! No, quando Patricio lo portavo per lei, non ti preoccupare! Ah, dove si fa a mangiare? Ah, sì, sì! Vincelanna! 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 Eccola! In Molisani! Dov'è? Vincelanna! Vincelto! Non hanno! Che bellezza! Cos'è ti fa il cuotecchino? Vincelto! 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 Centicosto! Vincelto! 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 Francesco, tu, con Frotto sei quasi n esta! Vincelto! Spirito! Vincelto! 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 Guarda Massimo com'è l'ellino! Gli occhi del corgione che sono bellissimi, prendiamo... Come si fa a toccare il naso all'operatrice? Vabbè quando... Se tu dovessi scegliere uno solo degli R a portarti dietro, li sceglieresti? Miladio! Ho esitato? No! No, no, c'è stato nessun imparasto, nessuna esitazione! Ti ringrazio di avermi fatto una domanda! Scusa, ti sto immortalando dei tre mangi! Ma chi è che te l'hai provata il nome? Giornalista! Chi è che chiama? Chi è che chiama? L'ultima chiamata prima di distaccare! È da Tassan, non preoccupate! Chi è questa signora? Vigliatto! Ma non abbiamo brindato! Sei un vigliatto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Che compie gli anni oggi. Adio. Grazie. Grazie. Anche perché Renzo io voglio essere pagato per queste cose quindi non ti conviene lo faccio per te io. Vediamoci. Quante grappe? Quante grappe? Tutti. Grazie a 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 tutti.